E' successo, finalmente, mi dispiace, anche nel 2024 viene giocato il primo cartellino giallo Perché io non ho mangiato pizze e me lo sono ricordato stamattina dicendo E non ho fatto in tempo a prendere della pizza per fare questa simpatica gag di mangiarla in puntata E quindi, regà, mi disp, ma cartellino giallone Regà, veramente, cioè, mente collettiva di Power Pizza Io ieri sera, a caso dopo che avevo già cenato, ho pensato, non so cosa si farebbe super ridere Se prendessi adesso una pizza e la mangiassi domani mattina durante la puntata Cioè, incredibile la sintonia che abbiamo, wow Oppure abbiamo tre idee in croce e continuiamo a riciclarle costantemente Mangiare la pizza, mangiare la pizza e fare i fumetti E comunque è un cartellino giallo perché siccome sei a Milano sei obbligato a mangiare il risotto allo zafferano e la cotoletta Sono due alimenti gialli Due cose non vegane, tra l'altro, assolutamente Neanche il risotto allo zafferano Se prendi solo il riso e lo zafferano e la cipolla è vegano Sì, ma non è risotto alla milanese, ci va tipo il burro, il parmigiano, il midollo, santo Dio Allora, la margarina è il burro dei vegetali Non ho mai fatto il risotto con la margarina, effettivamente Non so come verla Per buone ragioni, probabilmente Ma, bando alle ciance, ringraziamo subito Nen che sponsorizza questa puntata E ne parliamo dopo E voliamo immediatamente ai grissini perché non me ne frega niente di quanto di pizza avete mangiato Ma no, ma aspetta, ma no, io volevo appunto scusarmi perché le ultime due settimane Non so perché, tra l'altro, Sio sta facendo il suono dell'aeroplano Ha detto voliamo Aspetta che atterro Comunque volevo dire Scusate perché nelle ultime due settimane con cose di traslocchi pazze Mi sono anche dimenticato completamente di aggiornare sulle pizze della settimana Riprendo dall'attuale settimana in corso Io comunque una pizza l'ho mangiata Quindi sono a posto Era la mia classica con diavola Con patatine fritte Yum yum Anch'io ho mangiato la mia classica melanzonzola Melanzola Buona quella Buonissima Il problema principale è che c'era il selettore di più 1,50 euro Pizza con l'impasto integrale Ho detto, a me mi piace avere le fibre E mi è arrivata una pizza senza impasto integrale Si sono tenuti l'euro e 50 Ma non mangerò mai più una pizza in vita mia Questo trauma insomma Comunque dicevi i grissini Nika adesso sono pronto Ok Dio santo Voliamo subito ai grissini di questa puntata Con Grissin Bon Che dice Bello il triblo e bello il giro del Giappone Ma ho rivisto i video del giro e Wow Nika delle vibes fortissime da partecipante a Takeshi's Castle Gli mancava soltanto il caschetto e una tutina Ora Mi piace che questa cosa traspaia Perché io quel viaggio l'ho vissuto un po' così Oh qual è la prova di oggi? Come supereremo queste cose? Quindi è bello Ma poi il caschetto ce l'avevate tra l'altro Avevate anche la tutina volendo vedere Quindi eravate proprio a posto Meno male che tu sai le cose del giro del Giappone Anche se non c'eri se non è il nostro cuore E Takeshi è un nome giapponese I castelli in Giappone Tortellini for president Dice Ciao persone meravigliose Vorrei timidamente fare una critica sull'uso della parola eschimesi Durante la recensione di Avatar Il mio compagno che è Inuit Mi ha spiegato che la parola eschimese È spregiativa per descrivere in modo sprezzante il popolo Inuit Come dire n-word ai nostri amici africani Inuit è più appropriato Mi rendo conto che non era voluto Mi sentivo in dovere almeno di informare Vi riguardo Ho detto ciò vi ringrazio per la bella puntata della compagnia Tanti auguri del Giappone Non lo sapevo Grazie che ce l'hai detto Come non lo sapevate? Io non lo sapevo No Io quando ho ascoltato distrattamente quella puntata Perché non c'ero io Ho detto col cacchio che me l'ascolto tutta E ho detto che sia un piccolo scivolone Ma sono sicuro che sappiano questa cosa E invece no Ok Mi sono sbagliato Perché noi tre siamo stati in Groenlandia Quindi sicuramente abbiamo scoperto questa cosa Abbiamo detto Fun fact Dimentica immediatamente Oppure semplicemente Non abbiamo imparato questa cosa nemmeno in Groenlandia Comunque sia Comunque ben fatto per questo grissino Bisogna sempre essere dei puntigliosi rompicoglioni Continuate a farlo per piacere Correzione fraterna Bruce Lee ci scrive Allora Nick D'uno e due ne vanno bene Ma guardami negli occhi Il solo nome che può essere considerato Per dune parte tre è Dune 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 Letto velocemente O se preferisci puoi dire Tutte le volte che non c'è dune Senza tremen E poi precisa anche Forse sono le tre di notte A quest'ora dovrei dormire per un motivo No grazie per averci lasciato Questo grissino Bruce Lee E esattamente lo stesso momento In cui penso le mie cazzate Quindi empatizzo con te amico Grazie 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 Deprivata dal sonno Per rimanere in tema Che segue incredibile La notte e il dormire Saranno la stessa persona Leggi solo il grissino Per piacere Dice anche Geronimo Stilton In come diventare uno scrittore Stratopico Tra l'altro Ciao Geronimo Che ci ascolti sempre Dà ragione a Nick Nel dire che una storia Deve essere credibile Ovvero con una sua coerenza interna Nick si dice così Anche se poi in qualche modo Ti sei spiegato Lo sto leggendo A figlia 1 Tim Faccia di Fontina Bravo Evviva ma scusa Ma questa cosa della coerenza interna Non l'ho detta io Nell'ultima puntata A me sembrava anche a me Sei tu forse Nick Non sono confuso Però per l'amor di Dio Se lo scrivi in un grissino Deve essere vero Per forza C'è un motivo Per cui la tradizione Di testo È maggior È più affidabile Di quella orale Stavo per dire orata Perché ho mangiato Il pesce Marco a pazza Però no In realtà penso di averlo detto Io pensavo di essermi Lamentato Senza sapermi spiegare Di questa cosa E tu poi mi hai detto Stai zitto Fatti i cazzi tuoi Può essere che non sia successa Questa cosa Ma può essere Anche che sì Va bene Comunque Marco Guzzi Trattino QX1VN Non so perché Questi grissini Iniziano a diventare Così lunghi Questi nomi Di grissini Ma nessuno ha mai detto Che l'orrore Ha già sbagliato Una predizione Pokémon ZA By Game Freak Emoji dell'amicizia Effettivamente hanno annunciato Un nuovo gioco Non è un gioco Nuovo mainline È un leggende Arceus No ma credo che si riferisse Al discorso Che io avevo detto Quest'anno annunceranno Un gioco Fatto da uno studio diverso Con un motore grafico diverso Invece questo gioco qua È fatto da Game Freaks E verosimilmente Utilizzerà di nuovo Lo stesso motore grafico Quindi credo che si riferisse A quella cosa Sbagliata però L'anno è ancora lungo Quindi secondo me Possiamo ancora Sperare magari In un annuncino a dicembre Che dice Oh il prossimo gioco Sarà sviluppato In Unreal Engine 4 E sarà sviluppato Da un team Completamente diverso Questa cosa Non succederà mai Nell'universo Sono d'accordo Anch'io spero ancora Che Sixong Venga rilasciato Il 14 di febbraio Io continuo a dimenticarmi Che ancora non esiste Sto gioco Abbiamo visto solo Un 14 di febbraio Quest'anno Che cosa vuol dire Quello è vero Vabbè comunque Secondo me Il 14 di febbraio 2025 dovrebbe uscire Ma comunque Era solo per dire Che non era quella Predizione che Non escono dei giochi Di Pokémon Ma era dell'anno scorso Quella Quindi non credo Cioè nel senso La lord di Power Pizza Ti sfugge Ti sfugge Ti sfugge Vabbè comunque Non vedo l'ora Di giocare a questo gioco Pokémon Zaa Bel nome Bravi Una vasca Ci scrive Ciao a tutti gli hosti PPP Oggi venendo a trovarmi Mia zia E parlando di pizza Per qualche ragione Lei ha detto Vicino a casa nostra Milano C'è una pizzeria Che si chiama Giuliano Che fa la pizzeria Col cornicione alto E piena d'olio Sono stato tentato Di chiederle Se avesse mai visto Un tizio pelato E pazzo Ma non avevo idea Di quale sarebbe potuta Essere la sua reazione Quindi alla fine Ho lasciato perdere Attenzione Una vasca correzione Perché non è che Ha il cornicione alto Non ha il cornicione Cioè nel senso La pizza di Giuliano È un unico Slab di pizza Tipo È alta Super buono Però sì Niente cornicione Solo gustosità alta È solo marciapiede È proprio un marciapiede di pizza È proprio un marciapiede di pizza Ok allora Io ho delle menus Nel specifico Due E una è Vi ricordate Quella cosa Della Willy Wonka Experience A Glasgow Certo che sì La mia cosa preferita Nell'ultimo mese E mezzo Santo Dio Meraviglioso Vabbè insomma Riassuntino Per chi non la conoscesse C'è stata Per l'uscita di Wonka Il film Hanno organizzato localmente Un evento Una Willy Wonka Experience Fatto malissimo Brutto In una garage Capannone Sì un capannone Illuminato a giorno In cui hanno stampato Dei fogli a quattro Con scritto Willy Wonka E li hanno appesi sul muro E hanno fatto scrivere A chat GPT Degli script Per Per diciamo La gente che ci lavorava lì Vabbè insomma È stato un disastro Che faceva talmente schifo Che fa ridere Ma la cosa bella È che adesso Ci fanno un musical Su questa cosa Di cosa vuol dire? Cosa mi stai dicendo? Willy Fest A musical parody Wow Buonissimo cosa Allora Cioè ci sarà Il comedian Ricky Lindholm Che ha fatto cose Con Garfunkel And Oates E il producer Richard Kraft Cioè fanno un musical Su questa experience Ok Hanno solo annunciato Che lo faranno So solo Che è una notizia Favolosa Da amante dei musical Ma da amante Delle cose che fanno schifo Io aspetto tantissimo Il numero musicale Di What is that? It's the unknown No Cioè Le due cose Che mi hanno dato Più gioia In questo ultimo Mese Mese e mezzo È Quell'evento Totalmente sbroccato Della Willy Wonka experience E tutte le teorie Del complotto Su Kate Middleton Cioè nel senso Cose più divertenti Dell'ultimo periodo Ah sì Sono viva Guardate questa foto In cui sono viva Bellissimo Bellissimo Che ridere Comunque l'altra News È che Nick Se ti dico Giochi Pubblicati Da Adult Swim Che è stata Acquistata Da Warner Bros Ti viene in mente Nessuna splash screen Prima di iniziare Un gioco Che potresti Aver giocato Più di 100 ore Non mi viene in mente Tipo Duck Game Oh Davvero Nice Sì Duck Game È un gioco Adult Swim Comunque sono 400 ore Ok Il problema È che Warner Bros Il nuovo CEO Di Warner Bros Sta praticamente Facendo Mary Kondo Con L'intera azienda No davvero E ha deciso Che siccome L'ultimo gioco È andato male Allora toglie Tutti i giochi di Warner Bros Da Steam Cosa Sono impazziti Completamente La cosa Buona Però È che Il tizio Che ha Pubblicato Con Adult Swim Duck Game Ha ancora I diritti Della IP Di Duck Game Quindi potremo Giocarci in futuro Quel gioco Continuerà a esistere La maggior parte Degli altri giochi No Meno male Gli altri giochi Chi se ne frega Ma almeno Posso giocare Altri belle Ora Duck Game Comunque Un sogno mio Nel cassetto Di giocare Con voi due A Duck Game E anche altre persone C'è Quindi Io spero Prima di diventare adulto Ma io credo di parlare Anche a nome di Sio Quando ti dico Che nessuno di noi Vuole giocare con te A Duck Game Quindi nel senso Questo sogno Non si realizzerà Ma io ho giocato con voi A Monster Hunters E i vostri tipo Brawl Stars Nick Io credo di parlare A nome di Loro Anche quando dico Che entrambi Giocheremo molto volentieri A Duck Game Insieme a Metal Ok Dannazione Va bene Chiedete il permesso Prima di parlare A nome delle altre persone Puntata di Power Pizza Per il sociale Il sociale Sì Giusto Io invece Ho un loro up Su una cosa che non ho visto Sei loro Giustamente Dato che nell'ultima puntata Sio parlava della zona di interesse Del fatto che fosse girato In una maniera peculiare Blah 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 Sono andato a vedermi Il dietro le quinte Dove spiegavano un attimo La produzione e tutto Mi ha fatto venire Ancora più voglia di vederlo Perché oltre al discorso Scrittura Storia Che ovviamente è interessante Io non avevo idea Zona di interessante Zona di interessante Non avevo idea Cioè Quando tu dicevi Adesso non mi ricordo Le tue parole esatte Ma quando dicevi Che era girato tipo Senza luci O senza persone Non avevo capito A che livello letterale Questa cosa Cioè nel senso Hanno preparato Tutta questa villa appunto Con microfoni E telecamere nascoste Quindi contemporaneamente Mentre le scene venivano girate Magari in una stanza C'erano due attrici Che recitavano Le loro battute La loro parte Nella stanza accanto C'erano altri attori Che giravano la loro scena Quindi anche a livello ambientale Si sente proprio Il rumore di una casa Vissuta Tra virgolette Nel senso che Senti tutti i rumori Gli echi Che arrivano da altre stanze E le persone Che recitano Recitano senza Appunto avere La crew intorno Che gli punta La macchina da presa Il microfono Quindi è tutta questa cosa Stranissima E il regista appunto Ha detto Sì ho fatto questa cosa Per avere una totale immersione Per creare questa situazione Che fosse quasi Grosse virgolette Documentaristica Esatto Sì E tra l'altro La cosa che avevo detto Completamente tirata fuori Dal mio popò Perché non era su niente Sul fatto Se ci fossero paralleli Con la situazione In Palestina adesso Sembra che si fosse Assolutamente Voluta E anche cercata Dagli stessi Che hanno creato il film Perché poi Io non avevo visto Il discorso L'acceptance speech Agli Oscar Dove faceva Riferimento esplicito A questa cosa Che ora è stato tagliato Da YouTube Seriamente Allora sul canale Dell'Academy Non c'è quel discorso Però ho sentito anche Che ci possono essere Delle giustificazioni Di copyright Che magari tipo Ci sarà tra un mese Quindi è vero Però non so Quanto ci sia Di complottismo Dietro a questa cosa Magari è veramente Fatta una cosa In maniera bieca Ma magari è una cosa Giustificabile per altre maniere Non lo so francamente Però ho letto più volte Persone che lamentavano Questa cosa E facevano vedere Che mancava proprio Quel discorso lì Che era quello Che citava la situazione In Israele e Palestina E faceva un po' tipo Alzare il sopracciglio Assolutamente Anche a me La prima reazione È stata quella Solo che poi tipo Mi hanno fatto notare Che anche altri Acceptance speech Buonanotte Io non so l'inglese Ma avete capito Cosa sto dicendo Altri discorsi Di accettare Esatto Non c'erano Però effettivamente Poi io non ho verificato niente Non so le vere ragioni Ovvio che un po' il dubbio Ti viene Però non ci metterei La mano sul fuoco In questo caso Tra l'altro Già che siamo in tema Notte degli Oscar Svariate persone Mi hanno scritto su Instagram Che ho di nuovo sbagliato Perché il cane Non c'era davvero Durante la serata Ma era una parte Preregistrata E c'era la parte bellissima Degli applausi del cane Perché c'era un attore sotto Con due zampe Che faceva applaudire il cane Ed effettivamente È molto bello E sì ok Però mi dispiace Che mi abbiate rovinato la magia A me piaceva sapere Che fosse Cioè pensare Che fosse lì da vero Lo sapevi anche prima Che delle cose Sono pre-registrate Durante gli Oscar Sai che cosa Agli Oscar dei film Hanno registrato Delle cose Per fare delle scene È un evento Così complicato Con così tante parti in movimento Che delle volte Dei siparietti Delle gag Dei dettagli Sono appunto registrati A parte E questo era uno dei casi Sì Era logico Che fosse così Ma non ho mai voluto Farmi la domanda Nei darmi la risposta E ora Per colpa vostra Lo so E mi dispiace La mia innocenza È stata Per l'ennesima volta Scalfita La perdita L'innocenza di Nick All'episodio 279 Power Pizza L'innocenza Tra l'altro È il periodo In cui si guardano I cartoni animati Adesso io sono adulto Non li guardo più I cartoni animati È certo che no Ma a volte Faccio delle piccole eccezioni Solo per i film Che hanno sia degli umani Che i cartoni animati All'interno Hai guardato Roger Rabbit Little Space Jam Ho guardato Un film Che è uscito un po' in sordina Chiama Coyote vs Acme Allora Film Che si apre Questo classico sketch Del coyote Che cerca di catturare Bipip Tra l'altro Lo sapevate Che in italiano Roadrunner Si chiama letteralmente Corridore della strada Ma nel senso che L'uccello reale Si chiama Corridore della strada Ok Cioè non è tradotto Con Google Translate E basta Giusto Tu sei certo Di questa cosa Sì sono sicuro Ok Cioè ve lo sto dicendo Perché è una cosa Comunque Willy Coyote Usa uno degli accrocchi Dell'acme Che però Come al solito Esplode Lui torna a casa Con la coda fra le gambe E poi però Vede un cartello Tipo alla Better Call Saul Che dice Pensi che un'azienda Ti abbia scammato Vieni da noi Studio di avvocati Avery eccetera Quindi prende un autobus E va ad Albuquerque Che tra l'altro È dove c'è Ambientato Better Call Saul Ma in fine cosa Wow What are the odds Di questa cosa Comunque qui troviamo Il protagonista del film Kevin Interpretato da Will Forte Che è un avvocato Di un piccolissimo Studio legale Che prende in mano Il caso di Willy Coyote E che pensa di fare Un piccolo patteggiamento Come fa sempre La sorella di Avery Però che è tipo Ancora giovane Con gli ideali nel cuore E fa la tirocinante lì Aiuta Willy Coyote A fare migliaia Di reclami Contro Acme Uno per ogni volta Che c'è stato Un malfunzionamento Vabbè tantissimo Esatto E quindi inizia il processo Con l'avvocato Da difesa di Acme Interpretato Da John Cena Che lì deride Dice Cerca di patteggiare Per 50.000 dollari Ma Willy Coyote Tipo strappa L'assegno E vuole andare avanti Perché in realtà Tutto questo processo È un piano del Coyote Per far testimoniare Bip Bip E catturarlo Wow Cioè è incredibile E allora Il film è scritto bene Interpretato ok I cartoni sono animati In due dimensioni Grazie al cielo Sì Ma soprattutto È un film con un cuore Cioè a un certo punto Esplora davvero Il rapporto Tra Willy Coyote E Bip Bip E ci sono tantissimi Personaggi dei Looney Toons Non tutti Ma il giusto Di quantità Di continui camei Non inseriti a forza Che hanno diversi ruoli In questo mondo Coabitato da cartoni a umani Vi dico solo Che uno dei personaggi Dei Looney Toons È diventato un senatore E vabbè Comunque Mi sono molto divertito Vederlo 8 fette di pizza con Oh no Non sono riuscito A vedere gli ingredienti Che c'erano sopra Perché me l'hanno portata via Questa pizza Ma infatti Io ho un dubbio Ma non vorrei rovinare Tutto questo setup Che stai creando Ma io sapevo Che questo film Non fosse mai uscito No ma l'hai visto In anteprima Quando ho detto Che è uscito in sordina Mentivo Questo film Non è mai uscito Ne mai uscirà Vi ricordate Quando ho detto Che Warner Bros Discovery Sta facendo tagli A destra e manca Per aumentare Il fatturato dell'azienda Sì Questo film Era finito E non uscirà mai Ma cosa Questa cosa non ha senso A parte che mi dispiace Mi sento anche in colpa adesso Perché sarebbe stato Più bello Ascoltare questa tua recensione Senza avere saputo la cosa Ma letteralmente Cioè in questi giorni Stavo leggendo del fatto E appunto Allora il film Non è uscito E non uscirà Non capisco come Da un punto di vista economico Possa essere più conveniente Dire ok abbiamo un film Che è pronto Non lo rilasciamo neanche In tipo direct to video Proprio basta Cioè abbiamo speso dei soldi E questa cosa qua La spaziamo sotto il tappeto Cioè come può essere Una cosa conveniente Cosa È allucinante Warner Bros ha scoperto Che non rilasciando un film Possono Claimare un tax loss Che vuol dire Che hanno una perdita E quindi questo è conveniente Per pagare meno tasse Praticamente È successo la stessa cosa Per Batgirl E Scoob Holiday Haunt Un film di Scooby Doo Che sono praticamente Dei film finiti Che non sono mai stati rilasciati E non rilasciando Coyote vs Acme 30 milioni di dollari Di tax break Praticamente Che praticamente Se non credi Nel film Cioè sei sicuro Che avrai 30 milioni di dollari Se invece fai uscire il film Fa il marketing E non funziona E non fa abbastanza soldi E quello invece è un Il problema è che Una quantità di persone Che l'hanno vista in anteprima Poche ovviamente Hanno detto che ero Uno dei migliori film moderni Dei Looney Tunes Perfetto Che esistessero Però meno male No ma anche perché poi Cioè mi chiedo Allora 30 milioni sono tanti Ma sono anche briciole Per uno studio grosso Nel senso che Allora è vero Con questa cosa del tax break Hai 30 milioni che sono assicurati Però mi chiedo Certe cose Anche che vengono considerate I dati dei flopponi Magari non lo so 50-60 milioni Se li portano a casa Caspita Cioè nel senso 50-60 milioni Però devi farci il marketing Cioè devi spendere Devi uno spendere altri soldi Per farlo uscire Per farlo uscire E non sto giustificando Nel senso No 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 È solo una situazione curiosa Però ecco Ma poi se siamo In una situazione Dove devono fare Dei tagli consistenti Per alzare il fatturato E cose di questo tipo Cioè non stanno a guardare Il ma speriamo Che questo ci porti O non ci porti Eccetera Vanno su cose sicure Questo ci riporta Dentro 30 milioni Goodbye Cioè Ok Immagino che sia così Il mondo del business È brutale E stupido Sì È proprio vero Ma infatti io sento Che mi state per chiedere Sì ma come hai fatto a recensirlo Sei un genio Un genio bello e attraente Innanzitutto grazie per il complimento Nessuno ti stava Come hai fatto a recensirlo Te lo sei inventato Magari come hai fatto a vederlo Non me lo sono inventato Perché è un utente segreto Ha licato Cioè sgocciolato in italiano Scusate L'intero soggettone Con tutta la trama del film Ah Ma proprio Proprio lo script Non è lo script Ma è il soggettone Ah ok Quello che devi far vedere Però che ci sono tutti i pezzi del film Nel senso Wow Tutta la trama C'è tutta Testuale però comunque Sì sì testuale ovviamente Ok ok Siccome Warner Bros Non ha intenzione di farcelo vedere Sto qua ha detto Vabbè Fuck it Ecco qua L'intero film Giusto A me è piaciuto A molte persone Che l'avevano visto in anteprima È piaciuto Copiatelo Incollatelo ovunque Trovate l'intera trama Di questo film Nello scontrino dell'episodio Leggetela per due motivi Uno È bello Cioè Un paio di punti Mi sono genuinamente emozionato Cioè è proprio una bella storia Wow Che mi dispiace tanto Che non sia stata Sviluppata Cioè è stata sviluppata Ma in un cassettino Da qualche parte E poi anche Da un punto di vista Se vi interessa Come si scrive Il soggettone di un film Nel senso che È proprio Una parte produttiva Del film interessante Perché Cioè è proprio descritto In maniera dettagliata Tutto Uffa Bellissimo Ma grazie alla persona Che ha licato L'intero Scucciolato le cose Sull'internet Scusate ma Io devo fare La mia solita parte illegale Perché in live chat Ci fanno notare Che è stato detto Che il copione licato Potesse Si fosse rivelato Un falso Però non abbiamo verificato Questa cosa C'è questa possibilità È scritto molto bene Può essere Però L'internet va a saver Mi sembrava scritto Molto molto E soprattutto Professionalmente Ma soprattutto Fran diceva Titolo provvisorio Dillo al coyote Dillo all'avvocato Comunque Passando oltre Fermo un attimo Perché allora Cartoni animati Cose delle persone giovani Se siete persone giovani Smettete di ascoltare Immediatamente Perché questa Arriva La mia parte preferita Quella della noia E della gestione Economica di casa Perché anche questa puntata È sponsorizzata Da Nen Che cos'è Nen Mi chiedete voi E io vi dico L'energia di Hunter Hunter Esatto È la migliore dell'energia Sì È l'energia di Hunter Hunter Ma è soprattutto Un fornitore di energia 100% green Che è 100% green Perché compra elettricità Da fonti rinnovabili E compensa Tutte le emissioni Del gas che vende La cosa interessante È il discorso Rata fissa Che Nick conosce bene Perché è già cliente Sia a casa Che in studio Confermami O smentiscimi Assolutamente sì Sono cliente Sia con la casa Che con lo studio E sono troppo felice Perché tutte le volte Che mi arriva Tipo Ehi Questa è la tua bolletta Di questo mese So già quanto è La guardo e dico È esattamente Come avevano previsto Come facevano Cioè come avevano previsto Sì Hanno fatto dei conti precisi Per saperlo E a me è venuto in mente Perché di recente Avendo una conversazione Con un amico Di cui non farò il nome Ma verso una lacrima Per lui Aspettando la bolletta Di gas e elettricità Ha detto Speriamo che non superi Questa cifra Che mi sono immaginato Spoiler E è arrivata Ed era più del doppio Nen come qualsiasi Perché capita queste cose Con le bollette La cosa bella di Nen È che ovviamente Come nessun fornitore di energia Non è che regala le cose È più conveniente di altri Ma anche loro Devono acquistarla Per rivenderla La cosa appunto bella È che non avete sorprese Di questo tipo Nel senso che voi sapete già Per i 12 mesi successivi Quali saranno I vostri consumi Perché loro in fase di iscrizione Guardano le vostre ultime bollette Fanno un calcolo Dei vostri consumi Li spalmano Su tutto l'anno E voi Per i prossimi 12 mesi Sapete esattamente Quanto andrete a spendere Che è ottimo Proprio per non avere Queste sorpresioni Che dici Questo mese Mi sento benestante Poi no Perché devi far raggiare 800 miliardi Di bolletta di luce e gas Anche se siete delle persone Che hanno poca capacità Di gestire le proprie finanze Io prima di diventare cliente di Nen Non avevo mai ragionato Su quanto consumo in un anno E quanto spendo E cose simili Poi dopo Vedendo il totale Dato che era già spalmato Su 12 mesi Quindi ho solo dovuto fare Una semplice moltiplicazione Ho detto Wow Risparmio tantissimo Che figata Ma non ci avevo mai ragionato Quindi Voi fatevelo fare Voi Buttategli delle bollette Su Nen E guardate che cosa vi dicono Perché potreste Trovarvi sorpresi Potete farlo andando su Ciao.nen.it Slash Powerpizza E lì noterete Che avete ben Un caffè di Milano Di sconto Cioè 48 euro Sì Usando il nostro codice Pizza elettrica Mi raccomando Nice Esattamente E quindi Grazie Nen Io non sono ancora Passato a Nen Solo perché Devo capire come funziona Con la questione Produzione di energia Dei pannelli salari Però anch'io Voglio tantissimo Passare a Nen La vita di Sio Comunque non può mai Essere facile Ci deve essere sempre Qualcosa di Uber Il complesso Sopra Vabbè tanto ho la macchina rotta Non mi servono i pannelli salari In questo momento Come la macchina rotta Vabbè comunque Aspetta Metti da parte un attimo Questa cosa Però non siete Sio Appunto andate su Ciao.nen.it Slash Powerpizza È stato il nostro codice Pizza elettrica Per avere uno scontone E informarvi Su quanto è conveniente E quanto è comodo E semplice da usare Nen Grazie Nen Per la sponsorizzazione Grazie È letteralmente il contrario Di Acme Un'azienda malvagia Non è il contrario Vabbè Nick Ti ho visto un attimo Che saltellavi sul posto Supercarico È perché vuoi parlare di qualcosa Perché anche io vorrei parlare di qualcosa Ma non so Se cedere il passo a te Vuoi fare sasso carta forbice? No No Dicendo questa cosa Mi hai già fatto passare la voglia Parla semplicemente Di quello di cui devi parlare Io sono tutto preso benino Perché ho qui La graphic novel Di cui vorrei parlare Persepolis Che è bellissima Tra l'altro in questa edizione Di Rizzoli Lizard Che è una figata Ma infatti Che edizionone cartonata Di pregiù Pesantona Non so quando è uscito So dirti che L'adattamento in film animato È uscito nel 2007 Di matrice francese Con Marjan Satrapi Che è l'autrice Sia delle memorie Perché è un libro autobiografico Sia quella che ha fatto Tutto il libro in generale Che è diventata anche regista Ed è il suo esordio alla regia Come film animato Che è stato candidato all'Oscar nel 2007 Quindi tipo Pem pem Grandissima Marjan Perché è veramente una figata Ma che bomba Che scrivissi al libro Che registi Che registi E dirigi il film Ma che figata Wow Anche perché Mi è sempre sembrato Uno degli adattamenti più fedeli Che abbia mai visto Ora sappiamo perché Questo spiega perché Esatto Tra l'altro è bellissimo Perché la graphic novel Ha avuto grande successo Ed è una storia bellissima Che poi vi vado ad accennare Tanto che Ad Hollywood Hanno proposto Un adattamento live action E per un momento C'era quest'idea Che girava del Vogliamo fare un film Con gli attori veri E ci sarà anche Brad Pitt E lei ha detto A un certo punto Regà no L'unico modo per adattare Questa cosa È attraverso l'animazione E quindi ha preso in mano Lei le redini del progetto E insieme a Vincent Paronnaud Che però Ho visto che tipo L'ha aiutata A fare questo Ha codiretto questo film E ne ha fatto un altro paio Ma nulla Che io abbia mai visto Hanno girato E gestito Tutto questo adattamento Che sono 90 minuti Perfetti Infatti dura un film Esatto Dura proprio un film No ed è Cioè Bellissimo Voi l'avete visto giusto? No il film Ma io ho solo letto il libro Io non ho Io niente Sono quello che è più interessato A questa cosa Ma comunque non ho mai letto Ne visto La storia è meravigliosa Parte da quella di Marjan Che è appunto La nostra La nostra principale protagonista Nonché la voce narrante di tutto Che ha nove anni E vive con i suoi genitori In Iran Nel momento In cui inizia a esserci Il cambio di potere All'interno del paese Inizia la rivoluzione islamica Quindi quando gli integralisti islamici Fanno deporre lo Shah E iniziano a imporre Tutta una serie di regole Che conosciamo Tipo Cosa sicuramente Molto importante Per quanto riguarda questa storia Far mettere il velo alle donne Limitare tantissimo Le libertà delle persone Limitare quelli che sono i libri Che possono essere letti La musica che può essere ascoltata Cioè cambiare tantissimo E si vede proprio All'interno di tutta la storia Che viene raccontata Quanto l'Iran cambi come paese La famiglia di Marjan Che è questa bambina Super piena di vita Simpaticissima Divertente Sboccata Non lo so È proprio bella da vedere Il film te la presenta Come proprio un personaggio Simpaticissimo Carino La vuoi abbracciare È proprio una bambina Che vorresti avere amica E lei cresce In questa famiglia Che è sicuramente Molto politica Molto attiva Dal fronte politico E soprattutto Molto progressista Tanto che addirittura Una figura estremamente importante È lo zio comunista Che riesce a scappare Dalle prigioni Ritorna Prigioni in Azerbaijan Se non sbaglio Ritorna in Iran E parla tantissimo Con la nipote E le crea Questo interesse Nei confronti Della vita politica Del paese Quindi lei vede Il paese cambiare E man mano Racconta di come Lei cresce In questo paese Dove le libertà Vengono pian piano tolte Soprattutto alle donne Ma in generale Su tante cose C'è una scena Particolarmente importante Dove ad esempio Uno dei loro familiari Non sta bene E ha bisogno Di cure Che non può ricevere In Iran E quindi avrebbe bisogno Semplicemente Di un lasciapassare Per andare all'estero A farsi curare Ma il primario Dell'ospedale Non è un medico È solo una persona Che era un vecchio Lavavetri Che semplicemente È diventato il primario Delle cose E blocca questa cosa Perché nessuno può uscire E se alla vuole Lui guarirà Altrimenti no Quindi racconta Tutta questa difficoltà Nel paese Finché non mandano Marjana a Vienna Al liceo francese Per studiare E inizia Tutta un'altra fase Della sua vita In cui lei scopre E inizia a muovere I primi passi All'interno della cultura occidentale Lei poi tornerà In Iran A un certo punto Vivrà delle altre situazioni Non voglio andare A raccontare la storia Perché sennò ovviamente Vado passo per passo A raccontarvela tutta E poi finirà A vivere a Parigi Però è Questa storia Raccontata Con tantissimo garbo Tantissima eleganza È super divertente Poi tra l'altro Se voi non avete visto il film Rispetto alla parte Della graphic novel C'è una parte di musica Licensed Estremamente importante Perché una delle cose Di cui Marjane È particolarmente appassionata È la musica E quindi ci sono Tutte queste canzoni C'è anche tutta la questione Che a Tehran Non puoi trovare Della musica rock Perché è illegale Quindi c'è tipo Anziché andare Dalle persone dietro I vicoli A comprare le droghe Vanno a comprare la musica Per ascoltarla in camera E non so Vedere questa persona Perché poi Mi viene a dire personaggio Ma è veramente una persona Perché è completamente Autobiografica Come storia Che cresce Che cambia davanti a te Ti ci fa affezionare tantissimo Tra l'altro Ve la consiglio caldamente Nella lingua originale Che è francese Perché è proprio Non so C'è qualcosa Nel voice acting Che mi è piaciuto tantissimo Mi ha toccato dentro C'è una figura C'è una figura in particolare Che è quella della nonna Che è una figura Super bella Super dolce Molto importante Che le fa un po' Da bussola morale Anche nel crescere Cioè che la invita sempre Ad essere se stessa A non compromettere A non farsi cambiare Da quello che c'è intorno Ed è proprio questa figura dolce E veramente bellissimo Cioè ci sono uscito dal cinema Con le lacrimucce E le mani sul cuore Perché è una bella storia Ma che ti fa super paura Perché vedi quanto Questo tipo di cambiamenti Quanto Non so Determinati movimenti Di forza politica Intorno a te Modificano il tuo paese In una maniera Che non puoi neanche comprendere Neanche concepire E non ci puoi fare nulla Tanto che Finisce addirittura Se non stai attento A interiorizzare Alcuni di questi cambiamenti E se non hai delle persone Che riescono A farti notare Che stai assimilando Queste cose Perdi un po' la via Veramente bellissimo Ve lo uber consiglio Tu sei andato a vederlo Perché c'è La nuova edizione In 4K Giusto? Adesso me lo dici tu Quindi sì Io so che Il mio cinema preferito Qui a Milano Si chiama Beltrade E hanno una programmazione Che è veramente varia Hanno dei tantissimi Film de sé Ma ci sono dei momenti In cui decidono Semplicemente di Mettere quel film Per due giorni E probabilmente Adesso mi dirai C'è la nuova versione Restaurata in 4K Sicuramente sarà Quello il motivo Immagino Dal 4 marzo Sì c'è questa nuova versione Perfetto Perfetto Abbiamo scoperto perché Esatto Mi chiedevo anche All'inizio Come mai Cioè ne so A parte che possiamo Vederci cose vecchie Che non avevamo mai visto Però perché Avesse tirato fuori Proprio adesso Per Seppolis Ok Perché l'hanno rimesso Al cinema Ha restaurato Tra l'altro Piccola nota Se state guardando La puntata video Adesso vi sto mettendo Davanti Una pagina Della graphic novel Il tratto Sia della graphic novel Sia quello poi Tradotto nell'animazione È super essenziale Veramente del bianco e nero Cioè non ci sono dei grigi C'è il bianco E c'è il nero Però è veramente funzionale A riuscire a raccontare Anche i cambiamenti Dei nostri personaggi E a fare benissimo La distinzione Secondo me Fra personaggi Tra virgolette secondari E personaggi Che sono un po' più principali Perché mette Delle piccole caratterizzazioni Ad esempio Marjana a un certo punto Quando cresce Le viene fuori Un neo sul naso E da quel punto È sempre visibile Dove sia lei Quando sia lei Anche se Magari cambia di forma Perché questo ti permette Nel raccontare La pubertà Di una bambina Di Non so Raccontare il fatto Che si senta un mostro Che si senta piccola O cose simili Però c'è quel neo E tu sai sempre Che stiamo parlando di lei È veramente Fatto in una maniera magistrale Io ho un voto Da dare A questo Persepolis In 4k Ora ho scoperto Che sono nove fette di pizza È una base Con il carbone vegetale Quindi è nera Sopra c'è una crema di anacardi Della cipolla Della neto Nice Ci ho provato A rendere fiero l'oro È una pizza mangiabile È buona È buona Non hai sentito critiche Da parte mia Perché era così Che dovrebbe essere Mi ha fatto strano E quindi non sapevo Come reagire No mi ha fatto ridere Mentre ne parlavi Che io veramente L'ho letto un triliardo Di anni fa Cioè per me è lontano Quello che ho fatto ieri Quindi un libro Che ho letto molti anni fa Per me veramente È una vita nel passato Eppure man mano Che menzionavi delle cose Mi tornavano in mente E mi è anche venuto in mente Che di recente Quando ero andato a vedere Ne avevo parlato in puntata Kafka Teran Che se vogliamo è un po' Land spectrum Riguardo a questa storia Nel senso che Giusto È vero Se questo libro parla Dell'inizio di una situazione Kafka Teran Mostra com'è oggi Questa situazione Spoiler Non bene Però mi ricordo Che mentre guardavo Ho appena uscito dalla sala Dopo aver visto Kafka Teran Avevo pensato a Persepolis E una cosa che È l'unico parallelo Che avevo fatto Perché Persepolis Se vogliamo È più umano Anche più dolce Non so come dire Come storia Posso che abbia comunque Dei momenti assolutamente drammatici E tutto quello che vuoi Kafka Teran È veramente un pugno Nello stomaco Però mi piaceva Perché in entrambe Esatto L'esempio del medico Che hai fatto tu Calza perfettamente Come delle volte Il male Sia una cosa Di proprio Di burocrazia Di ordinare amministrazione Cioè Non è qualcosa Di grosso Di La persona che ti sfonda Casa a calci Entra con un fucile puntato No È anche semplicemente Un sistema ottuso Che combatte Contro le persone Contro lo stesso popolo Che dovrebbe servire Assolutamente È tutto agghiacciante Da quel punto di vista Super bello Sì 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 Mi hai fatto venire voglia Di rileggerlo Ce l'ho qua dietro Da qualche parte O di vedere il film Guardati il film Davvero Secondo me ti piacerebbe tantissimo Perché sicuramente È una versione ridotta Della graphic novel Io l'ho comprata Un paio di giorni fa Non l'ho ancora letta Cioè l'ho sfogliata Aprendo delle pagine a caso E c'erano spesso Dei punti Ho detto Ah questo non veniva Esplorato così tanto Dentro il film Quindi bello anche adesso Rileggermi La graphic novel E quindi vedere Tutta l'opera completa Però il film è fatto Proprio proprio bene Quindi sono Strasco d'insolino Di essere andato a vederlo Capito Warner Bros Questo è quello che succede Quando fai uscire il film La gente li guarda E poi dice Che bello il film Che ho visto Allora mi spiace perché Non mi spiace davvero Però devo dirlo Per sembrare una persona migliore Di quello che sono Mi spiace Che passiamo da una cosa seria A una cosa molto più faceta Ma io nell'ultima settimana Ho giocato a Unicorn Overlord Che è l'ultimo gioco di Vanillaware Uscito su Switch Tra l'altro Non so Forse è esclusiva per Switch Però non sono sicuro di questa cosa Se per esclusiva per Switch Intendi che è uscito anche su Playstation e Xbox Sì è esclusiva per Switch Non intendevo quello Allora non è esclusiva per Switch Faccio stare Io lo sto giocando Su Switch Allora che cos'è Allora prima di tutto La Vanillaware La potreste conoscere visivamente Per dei giochi come Dragon's Crown Muramasa Thirteen Sentinels È quella Quella software house Che fa tutti dei giochi Dove gli sprites Sono tutti dipinti a mano Proprio come le sorprese Degli ovetti Kinder E sono tutti esteticamente incredibili Sì Nick se lo potrebbe ricordare Per Masamune Per esempio Esatto Perché l'ho chiamato Masamune L'ultima volta Esatto Stavo parlando di Blade and Fury Che ha lo stesso stile grafico E penso sia fatto dalle stesse persone E non è assolutamente Non è assolutamente Non è assolutamente Hai proprio Hai proprio detto Una serie di Una combo di cose sbagliate Che volevo Prima o poi Citare in puntata Grazie Io approvo che tu abbia fatto questa cosa Perché amo essere sgradevole Quindi ben fatto Sio Anche per interposta persona Anche per interposta Soprattutto Da Sio Che lo sappiamo È una merda peggio di me Ma lo nasconde meglio E quindi Non fare pinta di essere Comunque Fatta sta È l'ultimo gioco di Vanillaware Appunto Allora in questo caso La direzione artistica Non è di George Camitani Che è anche un po' Il capoccia di Vanillaware E lo si vede Guarda Parto da un lato negativo Dal fatto che L'estetica è Bellissima E parlo non solo degli sprite Ma anche proprio Dell'interfaccia di tutto Cioè Io è un gioco Che mi ha catturato Più per l'interfaccia Che per le meccaniche Poi anche per le meccaniche Però è tutto più Se vuoi Anime Ma realistico Non ci sono quelle Sproporzioni esagerate Alla Camitani Non ci sono Tette giganti Muscoli giganti Personaggi Spade giganti Corpi completamente Sbilanciati Perché Questa cosa che io adoro Che appunto Crea l'esagerazione Cioè Iperstilizza i personaggi Qua la cosa è molto più contenuta Ma nonostante questo Zio Banana Quanto mi sta piacendo Sto gioco Soprattutto Inaspettato Perché è fondamentalmente Uno Strategi RPG Cioè Parliamoci chiaro Quei giochi Che se rigiocaste su computer Selezionereste con il mouse Le varie unità E gli direste Vai qua Vai là Che farlo su una console Può essere scomodo Non è scomodo assolutamente In questo caso Bellissimo Bellissimo E' proprio creato molto bene Allora il setting E' proprio quello High fantasy classico Con Regno Tizio Caio Che si oppone Al regno Caio Sempronio Della malvagità E i protagonisti Sono Guardami Sono il Il protagonista Tra l'altro Ha il carisma Di un tostapane Vabbè Per fortuna Che poi parte Dell'altro cast E' meglio di lui Però ha fatto stare La classica Sono il principe Che tutti credevano morto Sono qua Per fare il bene Riportare la giustizia Nella terra Bla 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 Cose 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 E appunto E' della classica cosa Che ha unità diverse I lanceri Cavalieri a cavallo I maghi Vatte la pesca Combattono Su questo mondo Esteticamente bellissimo E si scontrano Tra di loro In combattimenti Che ricordano un po' Advance war O fire emblem Esatto Mi sembra Lo sto guardando Sembra veramente Advance wars E fire emblem Messi insieme Ma Ma Ha un elemento Che mi piace tantissimo I puzzle No poi Praticamente Gestire delle loro Abilità Prima Cioè In advance war Tu hai Che cacchio ne so Il carro armato Fa quella cosa Quando si scontra Contro un'altra unità Fa quello che fa Ovvero sparare Fine Esatto Boom Qua invece In unicorn strategy Tu puoi customizzare Le unità Le unità Nell'insieme O gli singoli personaggi Con dei gambit Che ricordano un po' Quelli di final fantasy 12 Quindi tu gli puoi dire Usa questa abilità In questa circostanza E quindi Quando si scontrano Le due unità Tipo la tua Con quella nemica Loro fanno Delle cose Che hai Che sono in automatico Ma che hai programmato Tu prima Ma è bellissimo Questa cosa Ma puoi decidere tu Quale sarà la linea D'azione Poi a livello Di quality of life Ci sono Io vivo Per le cose Quality of life Ce ne sono tantissime Super piacevoli Cioè allora Hai un log Sembra io Una classica cosa Che faccio è Mi fisso un mese Con un gioco Poi non lo tocco Per sei mesi Quando ci torno Sopra Mi sono dimenticato Non sai cosa Hai fatto Qua hai un log Di tutti i dialoghi Tutto quello Che è successo Tutti i personaggi Quando sei in battaglia Che appunto Come dicevo Avviene in automatico Hai anche un log Delle singole azioni Tu quindi puoi mettere In pausa E vedere quali sono state Le azioni E seguire il flow Del combattimento Lorro perdonami Mi fa piacere Sentire che tu Stai parlando Di questa cosa Io mi sono sempre Chiesto A cosa cazzo Servisero i log Nei giochi Ho sempre detto Ma perché Ma che palle Ma chi è che va indietro A guardare Mi hai appena spiegato Perché Io se voglio Seguire bene Una cosa Ma anche per esempio Nel senso Semplicemente La versione base Base del log Negli ace attorni Nei primi giochi Non c'è Negli ultimi giochi Invece c'è il log Puoi guardare I dialoghi precedenti E aiuta tantissimo Perché magari Uno ti sfugge E dici Oh no Non lo posso mai più leggere Ma poi figurati In questo gioco Che essendo una cosa fantasy C'è tipo Ah sì Lui è Ciorabum Cavaliere di Sbrababim Che ha combattuto Contro il regno Di Sbrababim E tu dici Santo Dio Mi stai droppando 18 nomi Me li sono già dimenticati Invece con un log Vai a rileggere Dici ok Ho la situa sott'occhio Allora tra l'altro Dal punto di vista storia Io sono all'inizio Perché ho giocato Una decina di ore Tipo ok Allora non arriva A quelle altezze Di Tattic Sogre Dove prendono Una situazione Di guerra E ne parlano Considerando Tutte le sfaccettature Quindi Tattic Sogre È quella storia incredibile Che parte da Un manipolo Di orfani Di guerra E di come Cercano di emanciparsi O di prendere il potere O di riguadagnare La propria indipendenza Cioè È proprio una cosa Umanamente complessa Qui è molto Per dove sono io È una cosa molto più semplice Buoni contro cattivi Però ogni tanto Ti dà dei guizzi No Di qualcosa in più Tipo L'ultimo Uno degli ultimi combattimenti Stavo combattendo Contro l'esercito nemico E c'è la classica cosa Che ti introduce Man mano alle meccaniche Questa è una cosa bella Cioè Meccaniche classi Te le introduce Man mano organicamente Con la storia Ok E quest'ultimo combattimento C'era la classica cosa Se parli con un'unità nemica Potrebbe decidere Di allearsi con te Tu dicevo che è classica meccanica Uno si allea con te Poi parli con il secondo E ti dice No ferma Voi siete l'esercito Di liberazione Ma in realtà Il lord della zona Che state combattendo Si è sempre premurato Di dare da mangiare Di proteggere Il popolo locale Quindi hai anche qua Un po' delle sfumature Di Ok buoni e cattivi Però non è tutto Bianco e nero Bellissimo Può essere interessante Poi magari andando avanti Questa cosa viene accentuata Ancora di più Oltre al fatto che appunto Come dicevo Sono nelle prime dieci ore E credo di avere grattato Solo la superficie Perché ho già Un gazzilione di classi Che sinergizzano Tra le loro In maniera diversa C'è la classica cosa Un po' sassacarta I forbici di Questa classe è più forte Contro quest'altra E più deboli Contro quest'altra Però molto più complicata E approfondita Perché ci sono un gazzino Nei classi E io sono solo all'inizio Poi quando ho aperto Il registro delle classi Cioè ne ho scoperte Non lo so Il 9% Alla fine Cioè c'è un'enormità Probabilmente di roba Che dal punto di vista strategico Vuol dire che darà Veramente molto varietà Alla cosa Proprio un gioco di loro Cioè mi sta piacendo tantissimo E come dicevo all'inizio La grafica Bellissima anche la musica La grafica fa comunque Un bel heavy lifting Perché l'estetica vanilla Where è sempre incredibile Anche se non ci sono Muscoli giganteschi E tette gigantesche In questo È splendida E le interfacce Sono una cosa Incredibile Barocche Eccessive Piene di dettagli Ma sempre molto leggibili Mi sta piacendo molto Per me sono otto fette Di una pizza Frearielli Scamorza e acciughe Che è molto È molto saporita È estremamente gustosa Magari non è per tutto Perché comunque appunto È uno strategy RPG Quindi ti richiede Un certo investimento Di attenzione e di tempo Ma Se è nelle vostre corde Veramente buttategli un occhio Perché Non era quello Che mi aspettavo Dalla vanilla Where Ma mi sta colpendo In maniera Iper positiva E hai già postato Sul nostro account di Instagram At powerpizzapodcast 1 1 1 2 2 2 3 3 3 Erano tipo 100 puntate Che non lo dicevo Un sacco di immagini Dei cibi Che sono una delle cose Classiche Della vanilla Che hanno sempre Dei cibi bellissimi Esteticamente Esatto Perché allora Già il cibo Negli anime Bellissimo Cibo nei videogiochi Bellissimissimo Cibo nei giochi vanilla Non in poche manuale edizione Cibo nei giochi vanilla Cioè apice dell'estetica totale Anche perché oltre a essere Proprio dipinti bene Hanno sempre quella fisicità Cioè tipo che cacchio ne so Hai una torta Che è tutta traballina E jiggly tipo no Cioè vedi proprio Le consistenze del cibo È bellissimo È una roba Che mi fa venire ultra fame Anche in questo Come in tutti i giochi vanilla Cioè ovviamente la parte Dove vai alla taverna Che bello E puoi scegliere il piatto Da far mangiare ai personaggi Che poi anche un'utilizzo Un'utilità meccanica Nel senso che Li fai diventare amici Tra di loro Però è anche sta schermata Super soddisfacente Con tutto il cibo in tavola Bellissimo Otto fette di pizza Buttateci un occhio Bibi 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 Cosa? Questa tazza Mi ha detto Un loro app istantaneo Just in Cioè che quelli che dicevano Che il leak Del mio film preferito Acme vs. Coyote Era un fake Ci sono delle dichiarazioni Di alcuni attori Che hanno recitato In questo film Che dicono Ho visto il leak E sembra che sia accurato Io dico solo questo Quindi ragazzi Non mettetevi contro Sio O contro Warner Bros Non mettetevi mai contro Sio Ma è un'illazione È sbaglio Se dico che Mentre io parlavo del gioco Tu non mi stavi ascoltando Perché stavi cercando informazioni Sul tuo stupido film Di Coyote vs. Sacre No l'ho trovata mezz'ora fa Questa cosa Ho aspettato che Che tu dicessi Non ti stavo ascoltando Per altri motivi Stavo pensando al cibo Quando hai detto cibo Ho pensato Ecco cosa sto dicendo Ok nice Sembra veramente fighissimo Però appunto Non ho visto Dei tricipiti giganteschi Quindi non lo comprerò Ma infatti Infatti c'è qua Il più grosso È la classe dei gladiatori Che sono solo molto grossi E muscolosi Niente a che vedere Tipo con il nano Di Dragon's Crown Che era alto 20 centimetri Largo 80 metri Dio santo Solo fatto di muscoli Madonna Quanto amo la gente Che iperstilizza In un senso positivo Cioè che Prende una carattere Perché Giorgio Scusate la parentesi Ma devo orientare Giorgio Camitani Giorgio Camitani Quando fa le cose I design esagerati Appunto con Gambe enormi Tette enormi Muscoli enormi C'era la gente Che gli diceva È solo fanservice A parte che può essere Pure fanservice A me non dispiace In determinati casi No ma poi Iperstilizzare le cose È molto difficile E se fatto bene È una gran figata Perché la cosa che fa Camitani Non è avere la pretesa Appunto di realismo Ma è letteralmente Prendere una caratteristica Portarla all'estremo E quindi hai appunto La Valkyria Che ha tipo un busto Che sono 5 centimetri E 80 metri Di gambe Fatti solo di muscoli E ti conveia Questa sensazione Di potenza Fisica Voglio dire Bellissimo Nanno stessa cosa La Necromantica Che appunto Al contrario di essere Una che evocava Gli scheletri Invece era questa qua Super formosa Super provocante Cioè Però c'è sempre Un'utilità I suoi design Che sono in parte Ovviamente anche estetici Ed è anche solo fanservice Però comunicano benissimo Quello che ti vuole comunicare Sono un grande fan Di Camitani Dal punto di vista estetico Come persona Non lo so Lo sappiamo benissimo Come persona Non ne ho idea Però a livello di design Molta ecco Fine Fine comunque Giorgio Camitani Sembra una persona Straordinaria Esattamente come straordinarie Sono le persone Che finanziano Power Pizza Che permettono Che questo podcast Continua ad andare avanti Nella forma Che conoscete Amate E che vi fa sentire A casa Ovunque voi siate È vero Perché se Power Pizza Rimane gratuito Ascoltabile Settimana dopo settimana È solo grazie A Nen Alle persone che pagano E alle persone che ci sganciano dei soldi Su www.datecideisoldi.it O com Una delle due Com Ma perché it Mi ricordo raga Ogni tanto mi diventico Scusate Allora Stavolta invece andate su www.nondatecideisoldi.com Che quello non lo sbaglia l'orro Che va bene lo stesso Che ci supportano In vari tier Ci sono i calzoni E questa settimana I nomi dei calzoni Che andiamo a leggervi Erano a tema Oscar Esatto Come i film Che vincono gli Oscar Gli unici film che vincono gli Oscar Sono quelli che vengono rilasciati Grazie Lady Oscar Grazie And the winner is The Mask Cosa è? C'è la propria pic di The Mask Ok Oggi finalmente lo leggo io Grazie N.I.C.K. Neural Intelligence Culo Culissimo Con la K Grazie anche Banana Inc Grazie Il fantasma di Lorro The Sorrow Grazie Oscar Lambrusco L'Olio E il fratello di Carlone Allora questa la capiranno solo le persone Che hanno ascoltato l'ultima puntata speciale Quella in cui giochiamo ai giochi di ruolo Grazie Varg Che merita un premio Per non aver avuto un attacco di panichello Durante la convention E' un premio digitale Grazie a Microsoft S.A.F.N.I.C. Che è tornato scivolando dal campo scuola in Umbria Ora copilota dritta verso la mensa Buon appetito Ho fatto che sento dire Microsoft Stavo dicendo la stessa cosa Microsoft mi ha fatto stranissimi Ma vabbè adesso devi tenerla dentro Perché è una cosa che è dentro Ho idea di perché sia successa questa cosa Wow Grazie Nicky Maesce Paolini Subramania E grazie all'Oscar per miglior calzone non richiesto Va a tempo per aver fatto due calzoni in maniera burlonesca Oh era lui Non se ne sarebbero mai aspettate E grazie a super tele gattone Questa la capisce solo tempo Quindi Allora necessariamente il doppio grazie oggi va a tempo Per me E' meraviglioso Tempo e baluca congiuntamente E' però anche Oscar Lambrusco L'Olio Per essere un parente di Carlone L'Olio Il personaggio di Sio In Green Hawks Io invito i calzoni settimana prossima A trasformarsi in idoli pagani Il motivo vi sarà chiaro La prossima settimana Wow Wow Sei un genio Adesso se sai di cosa parlare la prossima settimana Puoi fare i calzoni già a tema È che succede raramente una cosa Ma questa settimana è successo Quello non è essere un genio E' avere un programma Ma ok Sì Entrambe queste cose Vogliamo nell'after show Perché noi come Power, Pizzord e tutto quanto Abbiamo finito di vedere Twilight Ve ne devo parlare brevemente Oh wow Ok Ok C'entra in the contra points O l'avete fatto indipendentemente? Sì Pizza e chiudo Alla prossima settimana Grazie Nen Pizza e chiudo Ciao Grazie Nen Pizza e chiudissimo Ciao Ciao Visit our website www.unpodcastveramentebellissimo Guarda ve lo consiglio proprio .com